ciao a tutti oggi prepareremo la granita di fragole il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa ingredienti sono fragole zucchero semolato e ghiacci in cubetti andiamo il via alla ricetta 10 minuti prima di iniziare la ricetta ricordarsi di prendere dal freezer il ghiaccio iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le fragole che possono essere sia fresche che congelate e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il ghiaccio chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità da 6 sino ad arrivare a velocità 10 spatolando la granita è pronta serviamo la granita di fragole nella versione con e senza panna grazie e alla prossima ricetta a 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